Ehi Barbie, posso venire da te stasera? Certo, non ho grandi programmi, solo un gigantesco megaparty con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta. Che cool. Hai il giorno più bello di tutti. Lo è davvero come lo era ieri e ogni giorno da oggi è per sempre. Avete mai pensato di morire? Sono successe cose che forse sono correlate. La doccia fredda. Uovo il bruciato. E ho i talloni piatti a terra. Piedi, piatti! Smettila, Ken. Che cosa devo fare? Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo. La scelta sta a te. La prima? I tacchi alti? No. La rifacciamo. Devi volerla conoscere. Closer I am fine. Closer I am fine. Vengo insieme a te. No, per favore scendi. Non posso. Ho fatto una doppia scommessa con Ken. E non puoi farmi sembrare poco cool davanti a Ken. Ken non è cool! Lo è per me. Per favore? Ok. Barbie nel mondo reale? È impossibile. Se si viene a sapere... ...sarebbe... ...catastrofico! Voglio una bambola dentro la scatola. Gli umani prima o poi se ne vanno. Prendete Barbie! Le idee restano per sempre. Pensavo che forse dovremmo trovare Ken. Ken? Sì, Ken! Barbie e Ken! Sì, Ken! Certo! Ken non ha mai destato preoccupazioni. Cosa? Mai.